A questo punto della pre-season com'è lo stato di salute della squadra? Sicuramente qualche passettino in avanti l'abbiamo fatto, soprattutto nell'ultimo ciclo delle due amichevoli contrapani e quella di oggi. È chiaro che la lunga assenza di Bell e la lunga assenza di Pepe sotto il profilo della crescita tecnico-tattica del gruppo ci stanno frenando. Bell si è visto oggi, sta crescendo anche sul profilo atletico ma è ancora lontano dalla condizione migliore, quindi è difficile dare una quantificazione in percentuale. Stiamo crescendo, credo che anche la fluidità del gioco in alcuni momenti della partita sia migliorata, però dobbiamo usare bene queste due settimane e mezza che ancora ci mancano. Squadra tosta, squadra che ha grande talento, Trish su tutti ma non solo lui, Parks che oggi non l'abbiamo visto ma è un altro giocatore di talento, anche i giocatori italiani, è grande mestiere, Passera, Bruttini sono giocatori di grande qualità che sanno trovare la giocata importante in qualsiasi momento. Sodini viene dalla 1 quindi non è che possiamo dire che tatticamente troveremo una squadra che non sarà pronta, anzi anche oggi rispetto alla prima gara ha fatto vedere molte più cose e quindi sarà una partita a scacchi resa particolare dal fatto che siamo stati costretti in precampionato a vederci più e più volte, quindi quanto cresceremo e quanto ci siamo reciprocamente mascherati lo scopriremo il 7 di ottobre. Diciamo che indipendentemente dal risultato della partita di oggi che direbbe che non stiamo tanto bene, in realtà stiamo molto meglio di quello che potrebbe apparire, già nella partita di domenica dovremmo recuperare Simone Bellano dopo tre settimane fuori oggi ha potuto giocare i primi quattro minuti, era programmato così, Matteo Laganà domani rientra Parks dagli Stati Uniti, abbiamo un bimbo fuori però è il nostro decimo giocatore per influenza, non sono particolarmente preoccupato, fra l'altro ero preoccupato perché tradizionalmente le mie squadre perdono le partite di pre-season e ne avevo vinte 5 di fila.